Il sogno del Brescia si interrompe Catanzaro, tanti i rimpianti per la formazione di Rolando Maran che perde 4-2 dopo i tempi supplementari. Vince il Catanzaro ma domina la scena il Brescia che fino al 96esimo, pensate, pregustava il grande sogno di arrivare in semifinale incontrando nel derby lacrimonese. Il gol dell'ex Donna Rum a mettere il sigillo sul 2-2 a pochi secondi della fine era una mazzata tremenda. Poi Brignola e Iemmello nei tempi supplementari chiudevano i conti. Un Brescia che con Galazzi e Moncini aveva sognato in grande davanti ad un ottimo Catanzaro ma di più un Brescia che davvero aveva gettato il cuore oltre l'ostacolo. Resta davvero ramarico perché la formazione di Maran ha sprecato tante occasioni, almeno 5 nitide occasioni per chiudere i conti. Il cammino è comunque positivo. Siamo partiti da una retrocessione sul campo. Un Brescia che fino ad agosto non sapeva dove giocava. Un Brescia che ha rischiato tanto sotto la gestione Gastaldello. L'arrivo di Maran ha dato una sterzata incredibile fino ai play-off. L'epilogo amaro, ripeto, non cancella la bontà del percorso fatto. Applausi a questo Brescia, applausi a questo Rolando Maran e appuntamento ovviamente anche con Diretta Stadio. All'anno prossimo.